e finalmente siamo in diretta perfetto allora ci prendiamo qualche secondo così adesso la condivido e poi possiamo iniziare ecco qua perfetto tanto ci abbiamo subito il link di winter age in primo piano così perfetto lo vedono tutti allora iniziamo a condividere sono contento che siano riuscito a pizzicarti in questa data questo slot che era rimasto libero è proprio la cosa libera l'unico giorno che ho ma sai che altro la cosa bella è che io mi faccio una lista piano piano tutte le persone che poi voglio contattare tu stavi lì e non sapevo mai quando pizzicarti invece alla fine ce l'ho fatta quindi dico ottimo ottimo allora ah bene ci abbiamo già delle persone connesse quindi a questo punto direi di iniziare amici di tramward buonasera a tutti questa sera appuntamento con luca chiglione batterista di winter age ciao luca benvenuto ciao ciao a tutti allora ragazzi partirei subito colmando le curiosità di tutti e chiedendo al buon luca come hai iniziato a suonare la batteria insomma come è nata la tua passione per lo strumento e quali sono stati i primi batteristi che ti hanno influenzato ma in realtà la passione per la batteria da che ricordo l'ho sempre avuta cioè io eh vengo comunque già da una famiglia dove mio papà suonava e suona tuttora la fisarmonica come strumento e quindi quando ero piccolino insieme a mia mamma lo seguivo diciamo nelle varie live che faceva lui suonava ballo ballo liscio faceva musica da ballo e già lì guardavo questi questi batteristi che comunque sappiamo che il ballo liscio c'è alla fine sui balzer mazzurche polche a limite cose un po latinoamericane però nulla di così complicato però io rimanevo a guardare questi batteristi incantato da questo strumento in braccio a mia mamma e per tutta la durata del concerto cioè non è che magari poi facevo il capriccetto volevo andare via rimanevo lì incollato ipnotizzato e poi ho iniziato piano piano andando avanti con l'età crescendo iniziando poi a riuscire a parlare diciamo così a dire a mio papà che volevo studiare questa batteria volevo provarci insomma che non ho iniziato subitissimo iniziato verso i 12 anni perché giustamente c'era un po la paura che fosse con le passioni passeggere no che uno si si studia la batteria poi compro tutto e dopo due mesi finisce in un angolo a prendere polvere però glielo ho detto alla genovese menato cioè vuol dire gli ho rotto le scattele talmente tanto per tanti anni che a 12 anni mi fa vabbè da impariamo sta batteria e mi manda a scuola qui vicino nel paese dove abito io che è poco fuori genova insomma che però detto sinceramente non c'è chiapavo niente e completo non riuscivo a sentire nel tempo come se fosse completamente negato per la musica e infatti non riuscivo neanche a fare le cose che mi venivano date nonostante le prime cose fossero facili senza le prime lezioni fra il ritmino fai l'esercizietto cosina di questo tipo però zero era tutto playstation della batteria non ne importava una ceppa però una certa capita che dove lavorava mia mamma lì vicino apre apre questa scuola di musica e guarda caso ci va a insegnare francesco frullo la rosa grande rullo e vado a vedere questo pendei dove c'è lui che suona e mi ricordo che sono tornato di corsa da mia mamma e detto no mamma io voglio andare a scuola da lui e da quella volta lì ho lasciato perdere insegnante di paese diciamo così e sono andato a scuola da francesco che mi ha tirato su per sette otto anni quindi ho fatto sette anni otto con lui e mi ha estradato proprio partendo da zero completo mi ha detto quello che hai imparato te lo dimentichi e ripartiamo da capo quindi da proprio ricomincio a studiare la batteria e da lì mi ha fatto diciamo mi ha coinvolto veramente tanto è un po come si suol dire l'appetito viene mangiando cioè più io studiavo più volevo sapere quindi più mi chiudevo diciamola così su sulla batteria c'è la mia playstation dal giochino fisico è diventata questa roba che ho dietro e quindi mi ci chiudevo ore e ore a studiare a suonare e più che altro anche si studiando il mio stile ma anche andando a scopiazzare quello che era lo stile dei batteristi che poi sono diventati i miei preferiti miei idoli primi primi su in assoluto vabbè tullio tullio d'episcopo che tra l'altro mi ha visto bambino perché veniva dietro casa mia a suonare in un locale e con mio papà poi si sono conosciuti e tutto e addirittura gli aveva detto ma ero poco piccolo sei anni una roba del genere di andare a studiare con lui a milano però a sei anni a milano è un po complicato è ben dire di sì e quindi va bello rivisto dopo quindi dopo anni che anche lì mi ha riconosciuto insomma ho avuto uno scambio di parole così sai suono anch'io sono arrivato a suonare o la band ho voluto sentire insomma è stata una bella una bella diciamo rimpatriata con tu e poi niente mi sono messo a studiare gli altri batteristi virgil donati maicomangini tutta questa gente qua che poi sono diventati i miei idoli e sempre grazie ai miei genitori sono riuscito a fare dei camp delle masterclass con loro hanno fatto studiare sia con virgil sia che con mike e lì è stato proprio mi si è aperto il mondo perché ho detto a la batteria è questa ok e quindi di nuovo l'appetito viene mangiando mi sono messo lì a proprio studiare quanto più ho potuto cosa che quando non devo fare che devo suonare lo devo andare a dar lezioni vicino qui e mi metto a suonare a studiare è proprio una questione di dire voglio continuare a migliorarmi semplicemente bene bene e niente poi questo diciamo sempre tramite frullo mi ha portato ad avere la prima band che è quello che ancora oggi infatti è quello che ti volevo chiedere quando è che sono arrivati i winter age a questo punto anche raccontaci qual è stata l'evoluzione della band negli anni vabbè allora i winter age in realtà è nato tutto un po per caso tramite frullo e tramite tommy dei nadir studio in pratica c'erano loro che gli winter avevano appena finito di registrare il loro primo album che era armonic passage e combinazione però finiscono di registrare l'album e il loro batterista originale decide di lasciare la band per altri impegni e quindi loro si sono ritrovati con l'album che doveva uscire fuori quindi in prossimità di fare delle date a piedi perché il batterista se n'era andato va scelto di dividersi allora tommy del nadir aveva iniziato a che cercare un po in giro qualcuno ed era capitata sta cosa nelle orecchie di frullo che gli aveva detto guarda io in realtà potrei averci qualcuno c'è un ragazzo che studia promette bene proviamo e mi misero in contatto con gabriele che è il violinista e mi disse sì guarda facciamo magari una prova al nadir ti mando un paio di pezzi da da fare gli studi e quando sei pronto ci dici e vieni a farsa prova io mi ricordo che ero andato in panico perché era la mia prima band in assoluto non ho mai suonato con nessuno se non mai saggi delle scuole di musica che suoni con gli altri ragazzi ma qua era una cosa diversa non è fare il saggetto davanti a mamma papà e gli altri genitori qua era già una band era una situazione mia situazione niente male perché comunque già aveva click aveva le sequenze quindi io mi sono ritrovato suonare alla prima prova con loro col click in cuffia le sequenze loro e quindi ero parecchio agitato impaurito dicevo di non ce la farò mai invece arriva sta prova mi metto lì faccio i due pezzi che mi ricordo che se non sbaglio erano armonic passage e la grotta se non sbaglio la grotta di cristallo insomma che mi siedo e li ho fatti tutte e due alla prima così proprio di volata e quasi senza rendermene conto cioè sono andato lì ho detto vabbè con la valla spac suono e l'ho fatti tutti anche la band a fine della prova mi dice vabbè dai li facciamo sapere il giorno dopo mi scrive gabriele mi fa qua sei dentro ma e quindi lì è stata la ed ero anche minorenne mi sembra che avevo intorno ai 17 anni una roba del genere ed era l'anno non me lo ricordo vabbè però comunque ero ero molto piccolo giovane non avevo ancora esperienza quindi da lì ha iniziato a fare i primi live con loro è infatti ti volevo chiedere per fare il primo live cioè prepararsi per le primo live poi salite sul palco e rendersi conto che ok adesso inizio a fare sul serio beh è stata un'emozione forte in quel frangente cioè nel momento in cui sali sul palco mi ricordo che la prima data tra l'altro era 261 locale storico di genova nei vicoli alti diciamo della città e tra l'altro c'era il locale pieno perché eravamo noi un'altra band che ora mi sfugge il nome però c'era il locale a tappo e forse gli altai eravamo suonare con loro tra l'altro il loro chitarrista dell'epoca è il chitarrista che abbiamo noi adesso è stato questo va bene poi c'è tutto in famiglia rimane tutto in famiglia è però la prima data è stata veramente una roba che io mi sono preparati i pezzi le studio vado sul palco lì suono davanti alla gente che fa un sacco di casino fa un sacco di rumore diciamo così stragasata in quel momento l'unico pensiero è stato che figata io voglio fare questo e quindi da lì sempre più a studiare sempre più a migliorare i pezzi per creare proprio anche il sound della band perché essendo che il disco armonic passage era già stato registrato ovviamente c'era il sound del primo batterista non il mio quindi io ho dovuto prendere i pezzi che avevano già un sound di un batterista riarrangiarli col mio sound senza ovviamente modificarli in maniera eccessiva e poi piano piano si è arrivato a comporre gli altri due altri due album dove io ho accumulato diciamo preso tutto quello che avevo studiato per conto mio per creare il mio sound con la band e ci ho buttato dentro diciamo così e quindi è stata per me l'emozione più forte che mi ha fatto dire ok io voglio fare questo cioè io voglio suonare perché lo sento dentro di me cioè sento che qualcosa che mi chiama stare sul palco davanti a della gente tanto o poca che sia ma mi fa piacere comunque regalare un momento di felicità che sia il poco nel metal sia comunque l'ascolto e il sorriso sulla faccia a uno che ti sta ascoltando beh bello questa è veramente una gran bella cosa è proprio il desidero dell'artista di condividere la propria arte con il pubblico esatto bello bello e quindi ma praticamente ti sei trovato poi a registrare successivamente poi come batterista della band quindi poi hai anche dovuto mettere del tuo in quella che era la musica di winter age esatto diciamo che tra la registrazione di armonic e la registrazione del disco successivo che è stato dei neri tons of beauty è passato un bel po di tempo un po tanto tempo però penso sia stata anche una cosa un po normale cioè la band comunque era ancora emergente e quindi ci sta che il disco che hai fatto cerchi di portarlo il più possibile live quindi non stai a comporre un altro disco l'anno dopo per esempio che comunque se sei ancora proprio emergente sconosciuto è difficile che il secondo disco ti possa portare a qualcosa se già il primo non l'ha visto quasi nessuno perché ovviamente era uscito band emergente si suonava poco quindi abbiamo cercato di per un bel po di anni portare in giro armonico ovviamente scrivendo materiale a random che poi si ritrova sia in meritans of beauty sia nell'ultimo album recente diciamo così necchia o necchia non mi ricordo mi sbaglio sempre a pronunciare però è un nome strano che hanno scelto e insomma che poi arriviamo a fare tutti questi live a dire va beh raga a sto punto registriamo il nuovo album abbiamo tutto il materiale perché no siamo passati con scarlet scarlet records di milano facciamo stanno e così mi sono ritrovato per la prima volta con loro in studio di registrazione a registrare il mio altro con la mia bene perché prima avevo fatto degli altri lavori di registrazione ma per altre belle magari ti chiama la band metal tale fai il disco la band cantante pop fai di ok quindi dell'esperienza in studio ce l'avevo ma avere l'esperienza in studio con la tua band è diverso molto più c'è sì è lavoro ma molto più familiare fra amici c'è no aspetta sto film non mi piace fallo così no aspetta il piatto li mettilo così non metterci quello metterci l'altro sta parte però magari non rende modifichiamola oppure ti vengono in mente delle cose all'ultimo che sono più fighe di quelle che sono state scritte in preproduzione e quindi non c'è la mente non è stato semplice registrare il primo diciamo primo album con loro mi sentivo un po in soggezione della serie ce la farò e poi ce l'ho fatta in realtà perché comunque ma anche in realtà necchia entrambi gli album alla fine l'ho registrati in due giorni tutte le tutte le tracce dove il terzo giorno me lo son preso per qualche percussione quella timpani piatti qualche effetto di questo tipo diciamo che il periodo di registrazione che ho fatto con la band si aggira intorno ai 3 4 giorni dove un giorno è solo accordatura quindi ti metti lì e ti accordi tutta la batteria col sound che io già prima avevo scelto quindi scelta delle pelli dimensioni del set dei piatti tutto e vai a montare accordare microfonare tutta la batteria i due giorni dopo registri e l'ultimo giorno vai a fare i particolari percussivi così ho fatto per entrambi gli album in realtà vabbè il classico insomma il classico lavoro nel dettaglio visto che ne stiamo parlando io sto guardando la batteria dietro di te e mi stanno venendo delle curiosità perché vedo timpano a destra timpano a sinistra e vedo anche che cos'è un tom sopra quel timpano sì esatto quindi tu hai un set che diciamo concepito come speculare o come open ended in realtà è più speculare un po stile mangini se vogliamo ok no perché mi curiosiva questa cosa volevo sapere la scelta diciamo che questo tom qua infatti è diverso cioè c'è in realtà un tom da dieci leggermente più profondo del mio tom da dieci principale è un'aggiunta nuova e recente perché volevo provare a integrare una cosa un po più stile sepoltura sai ilo in casa grande che al ton si è molto tirato e quindi ho detto perché non provare a inserire una cosa un po percussiva che magari va a bellirmi i brani in alcuni punti magari vado a fratteggiare sul tom anziché fratteggiare sul rullo per esempio quindi tengo il gruppo fratteggio dall'altra parte così come uso magari il timpano sempre per fratteggiare e poi li vai a usare entrambi quindi crei una sorta di fraseggio percussivo fra tom tiratissimo e timpano che poi è nata un tom perché un 13 questo comunque sì la batteria l'ho scelta apposta e di conseguenza cambia da alcuni da insomma da alcuni per esempio per i neri tans era un pochettino più piccola per ne cui ha l'ho fatta un pochettino più grande ma per un semplice motivo perché il suono era più grosso sono più cose da poter seguire quindi se io la batteria troppo minima l'occhio che se un'orchestra mi fa tante tante scale tante note da seguire e se io c'ho un tom o timpano come faccio quindi mi sono un po ridimensionato il set un po più in grande e cosa che probabilmente caprile mi citerà ma per l'album nuovo lo amplierò ancora un po però vabbè non c'è mai fin non c'è mai fin a quanto si può a quanto si può ampliare il set bene 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 interessante quindi diciamo ovviamente poi quella scelta di questo set va anche a influenzare molto il modo in cui tu arrangi se parte la batteria mia non esempio essendo speculare probabilmente il tipo la tipologia di fila che fa magari anche un effetto molto stereofonico esatto esatto infatti l'ho scelto apposta proprio per soprattutto anche nella scelta dei dei groove dei ride infatti ho due charlie due ride destra e sinistra diversi cioè non è non so per esempio uno suona metal ea due charlie uguali due ride uguali per avere magari lo stesso suono quando fa dei pattern su entrambi i ride o su entrambi i charlie invece ho scelto di tenerli diversi charlie sono di due dimensioni diversi 1 14 11 13 i ride invece sono uguali cioè sono due da 20 però uno ha molto ping cioè molto attacco l'altro invece è un po più scuro un po più grosso l'ho scelto apposta innanzitutto per avere differenza quindi rendere la cosa meccanica diciamo così dei pattern un po stile death alla ginoglian sui ride un po meno finti cioè avere due ride che suonano diversi lo rende secondo me un po più interessante un po più musicale che non due ride esattamente identici ok dopodiché l'ho scelto perché mentre io suono i pezzi i brani sia che siano parti folk parti orchestrali parti proprio power metal mi sposto a differenza dipendentemente scusa mi sposto in base a quello che voglio creare come sound cioè se io ho un sound molto scuro da parte della band user il ride più scuro quindi quello che tengo qua suono left per capirci se c'è il classico invece tempo power alla tupa tupa diciamo così userò ride quello un pochettino più acuto perché mi sembra si chiami scampo bit no tupa 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 i nomi ecco in quello mi serve un ride che bucchi di più quindi che abbia più campana più belle più ping ed è lui quindi in base a dove devo suonare mi sposto a suonare ride o suonare left sostanzialmente anche i charleston hanno due tipi di timbro diversi o invece il timbro uguale due timbre diversi questo è un 14 quindi ciccio bello scuro qua c'è il 13 quindi squillante stessa scelta quindi il 13 lo tengo vicino al ride squillante sempre per la stessa cosa cioè se devo avere una parte dove charlie buca di più è una parte dove il charlie deve essere un po' più impastato con il resto e bucare un po' meno allora uso il 14 ok e senti un po' domanda diciamo più che altro logistica se ti è capito di suonare magari in qualche contesto live con più band tipo festival come gestisci il cambio palco e il montaggio del set se hai diciamo questo tipo di esigenza comunque molto particolare beh in realtà non posso ovviamente punto sendoci altre band portare tutta sta roba che ho dietro perché è un po' complicato quindi diciamo che prima mi aiutava il buon gabriele o il buon daniele che è il cantante a portare su e portare giù roba però poi mi sono detto perché devo fare una fatica mostruosa a portare su un'asta per volta rischiando anche di sfasciare qualche piatto perché ti cado ci dà un colpo poi la quando posso prendermi un simpatico rack che mi fa il giro ci monto tutto lo chiudo e finisce lì c'è molto più veloce portarlo sul sul palco ovviamente se devo suonare io che siamo noi magari a the liner lo siamo da soli e ho la mia batteria hanno problem se è un festival dove ci sono più più band ho ridimensionato il set della batteria un po più stretto però che mi permetta comunque di fare le stesse cose che col set grosso cioè magari anziché avere quanti cresci ci sono 5 4 5 cresce ne ho magari solo due diversi ovviamente uno di solito porta il 18 e il 19 sempre per questione acuto scuro brillante scuro i due charlie quelli li porto solitamente porto un china da 18 sulla destra e poi porto i due raid quindi ridimensiono parecchio da avere 12 piatti arrivo ad averne un po me quindi risparmi anche tempo così risparmi anche tempo e poi soprattutto essendo e mi quando non posso portare il rack perché magari il posto è stretto perché comunque il rack per quanto sia comodo occupa del posto magari il posto non lo non lo prevede la pedana è piccola non ci sta mi sono costruito una sorta di asta rack diciamo così cioè che su un'asta tre piede ci metto 20 cose in modo tale che così vivi via una cosa sola e fai sul sicuro cioè per esempio magari a destra su un'asta tre piede ho il crash il ride e il charlie quindi l'unica asta a parte è quella del china che mi rimane staccata quindi magari tutto il set di appunto 2 crash 2 ride 2 charlie e il china me lo ritrovo su tre asti di cui una indipendente del china e gli altri due hanno tutto sostanzialmente beh bene molto smart come idea vedi sì soprattutto per il rischio di portarsi dietro staccone beh sì 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 tanto per quello ormai nei batteri siamo abituati ad essere praticamente dei trasportatori provetti il morto come lo chiamiamo qua quando c'è la sacca del morto la sacca del estero mai ovunque cioè io stesso so anni che la chiamo il morto è proprio penso dovrebbero chiamarle così nei negozi guarda dovrei comprare un morto esatto sì perché ormai la chiamano tutti così ok bene bene senti rimanendo sempre in tema winter ci voglio fare promo pesante alla band questa sera le esperienze live più belle che avete fatto magari che ne so un festival in particolare un concerto insomma vai beh allora l'esperienza più bella per quanto riguarda me ma anche anche i ragazzi sicuramente sono state due tre di nata allora la prima è stata il primo live che abbiamo fatto al montelago celtic festival che era un contest tra l'altro dove c'eravamo iscritti in premio c'era appunto un chiamiamolo tour di tutti gli altri festival che collaboravano col montelago e noi siamo andati ricordo che abbiamo avuto un problema nel senso che il nostro ex chitarrista per esigenze personali purtroppo non poteva venire a quella data e quindi non potevamo rinunciare al contest avendo passato tutte le selezioni per andare lì a finale esibirci dai davanti ai giudici non potevamo dire no non veniamo e allora abbiamo chiamato gianmarco che è l'attuale chitarrista che è e è anche il chitarrista degli altair che era quella band con cui avevamo fatto il primo concerto e venito guarda già ci conosciamo veresti a fare i pezzi e lui ha detto sì me li studio e veniamo siamo riusciti a fare quel live senza fare nessuna prova con gianmarco cioè lui è arrivato professionalissimo si è messo sul palco e ha fatto i pezzi tutti live buona la prima con il line check era un detto il contest c'è lui grazie a lui abbiamo vinto il contesto sostanzialmente infatti non credevamo se abbiamo detto vabbè ma dai lo vincerà l'altra band vincono i winter e abbiamo beccuto birra tutta la sera per festeggiare ovviamente però vabbè e da lì avendo vinto il contesto ci ha portato all'anno dopo a fare tutti i vari festival che erano diciamo organizzati insieme al montelago quindi mutina boica e tutti questi altri festival qua tutti uno più figo dell'altro davanti veramente un sacco di gente ea ritornare pure a suonare al montelago però a differenza del contest che era sul palco diciamo secondario al mortimer pub mi sembra si chiamasse al main stage secondario siamo finiti sul main stage insieme ai corpi clani ai nano war of steel noi suonavamo mi sembra alle nove poi subito dopo di noi i corpi clani band enorme e dopo i nano world band altrettanto enormi e lì è stata proprio un'emozione pazzesca perché è stata veramente la prima volta che io sono salito sul palco e mi sono trovato davanti letteralmente un mare di gente che quindi nel momento stesso in cui il palco ha fatto il flash sul pubblico io ho visto tutta sta maria di gente che ho detto oddio quanta gente c'ero proprio paralizzato infatti iniziato a tremare un pochettino no perché ero agitatissimo io sono uno molto timido in realtà quindi quando si trova davanti un sacco di gente oddio mi blocco un attimo poi però mi sblocco e parto è stato fighissimo a parte la mole di gente avere proprio il cameraman sul palco con le telecamere perché ai lati c'erano i mega schermi che mandavano il video in tempo reale per la gente che stava proprio lontano ci vedeva piccolissimi ed è stato un concerto penso fra i più fighi se non gli più figo che abbiamo fatto sia come posto che come quantità di gente che come resa perché avere davanti tutta quella mole di gente ci dava una carica paurosa proprio veramente paurosa e poi direi che l'altra cosa figa che abbiamo fatto che mi è piaciuta tantissimo è stato il tour che abbiamo fatto a fine anno scorso in inghilterra abbiamo fatto tre date abbiamo fatto manchester york e leeds ma è stata una figata perché veramente è stato bellissimo un'esperienza fantastica anche lì gente è un riscontro super mega positivo dal pubblico perché ti dico noi siamo partiti con un bel valigione di merch da vendere dicendo vabbè qualche cosa ritorniamo non venderemo un valigione da 25 kg di roba e invece non abbiamo perduto tutto tipo alla prima data quindi c'è stato un attimo di e mo cosa vendiamo quindi poi diciamo che c'è stato vabbè tra le altre date siamo tornati da tutto il tour forse con un paio di magliette ma per il semplice motivo che erano taglie troppo piccole per quelli che la volevano comprare e quindi siamo rientrati con sei tipo tre maglie e poi ho dovuto fare a casa gli ordini questi sono i problemi belli però se questi sono i problemi belli perché comunque vuol dire che per essere stata appunto la prima volta che la band winterage ha messo il muso fuori dall'italia ed è andata lontano dall'italia perché comunque siamo andati in inghilterra e siamo piaciuti un sacco vuol dire che che siamo piaciuti sul serio perché sennò non vedevi il messo era un tour da headliner o eravamo in supporto a qualcuno in realtà era un tour misto eravamo tre band di cui noi e i fellowship che siamo tutte e due sotto scarlet e poi c'era una band di mi sembra york i sales world e ci alternavamo mi ha fatto tre date dove prima erano del liner uno poi gli altri poi noi noi stessi stati del liner dell'ultima sera lizz dove abbiamo dovuto fare lo show più lungo perché diciamo che l'alternanza era band apertura show di mi sembra 40 minuti poi c'era l'altra da un'oretta e l'ultima band del liner da un'ora e mezza ok ok però è stata veramente una figata quindi mi ha dovuto fare tre scalette diverse ovviamente partire da quella più piccola più stremincita arrivare a quella completa di tutto avete fatto un warm up progressivo praticamente esatto ma l'ultima data ti dico è stata figa perché ci siamo ritrovati a suonare i pezzi folk con la gente del pubblico che faceva la remata vichinga stile a mona mart è stata una figata pazzesca è bello bello quando la gente c'ha una bella risposta a quello che proponi di arti veramente tanto esatto poi la cosa che è stata la diciamo la prova del 9 che siamo piaciuti su in inghilterra è il fatto che quest'anno ritorniamo su faremo di nuovo una data pirmigan a ottobre e da lì poi ci spostiamo e andiamo un pochettino più lontano andiamo in giappone quest'anno quindi a ottobre siamo riusciti a e quindi speriamo di piacere anche lì noi ce la metteremo tutta quantità le farete in giappone in giappone faremo è un festival in realtà che si organizza su tre date e noi ne faremo due sono due date a tocchio due serie diverse però le prospettive di gente non sono male insomma è un festival no ma poi a poi il giappone fighissimo perché comunque hanno un organizzazione proprio incredibile veramente incredibile se ogni tanto stanno arrivando dei saluti li metto tutti in sovraimpressione se io sono cercato non ci vedo quindi tanto marco berrettoni che ti dice batterista clamoroso fortissimo luca grazie poi ci ha salutato alfonso mocerino e il grandissimo michele colmi ciao a tutti ragazzi come sempre li dico se qualcuno vuole fare qualche domanda a luca le scrivete qui sotto io le metto su una impressione le leggiamo insieme bene bene quindi insomma sono contento di questa cosa in giappone secondo me vi divertirete veramente un casino ne sono sicuro infatti non vedo l'ora di partire che poi sai il giappone è sempre un po quella meta esotica irraggiungibile dove bene o male tutti vogliono suonare perché comunque è un posto dove hanno talmente tanta passione e rispetto per la musica che ti viene voglia di dire ma quando mi capiterà di andare in giappone quindi quando succede è veramente una grandissima figata ma infatti è stata proprio una cosa che ci ha lasciato tutti un po stupiti dicendo cacchio che figata perché comunque vendendo poi facendo uscire vari dischi vendendo il vari vari po di merce diciamo di tutti gli album abbiamo visto che un sacco di vendite appunto vengono dal giappone un sacco di richiesta dell'album della maglia della felpa un sacco di ordini da lì e quindi ci siamo detti vabbè raga dobbiamo provare ad andarci quindi perché non provare a trovare degli agganci per andarci e ci siamo usciti infatti come uscita la notizia che andiamo a suonare in giappone un sacco di gente appunto che ha preso la roba ed è appazzita basta dobbiamo andare a sentire ma poi il fan giapponese è quello più sfegatato e senti un po invece state lavorando già un nuovo album avete registrato qualcosa magari state per lanciare qualcosa in realtà stiamo scrivendo l'album nuovo possiamo lo stiamo scrivendo e poi vabbè decideremo tutte diciamo le tempistiche di lancio sia del disco sia dei vari singoli diciamo che adesso è in fase di scrittura stesura e poi io dovrò una volta che sarà fatto tutto il pacchettone dei pezzi mi metterò io lì con santa pazienza e mi metto lì a farmi le mie parti di batteria però quest'anno mi ci voglio divertire un po come come parti di batteria sempre seguendo la linea power però comunque mettendoci qualche cosettina batteristica come già ho fatto negli album nell'album precedente che ho fatto delle cosettine ma paradossalmente chiamate da quello che faceva magari l'orchestra che ha scritto gabriele o da il suolo di chitarra di gianmarco i riff che fa giamma e quindi cose che magari il mio orecchio dice aspetta ma perché lì non ci fai questo poi magari una volta scritto non mi piace una volta suonato non mi piace però spesso e volentieri invece risulta una cosa che in realtà è molto bella da vedere da sentire soprattutto mi diverte spostarmi per esempio l'ho fatto in decalto feccate dell'album necchia nella parte finale dei soli loro fanno questo questo rift o solistico io suonando diciamo dritto terzine tutto tuffato tutto tuffato tutto mi sono spostato sul tempo sostanzialmente donna ritmi che il lucio di amola così mentre loro si fanno loro solo all'inizio detto vabbè magari gli disturba sta cosa però in realtà poi scrivendole suonandola ci stava da dio detto vabbè allora tengo quindi faccio il mio e poi anche lì un brano in realtà abbastanza complesso che metterci le batterie non è stato facile perché già l'intro si alterna fra quattro quarti due quarti quattro quarti tre quarti quattro quarti insomma non è facilissimo poi sono battute sporadiche non è che il tre quarti ti dura quattro battute dura una battuta solo in fondo al giro quindi ti devi ricordare che il primo giro c'ha due quarti secondo ce n'ha tre poi ce n'è quattro e poi cambia di nuovo poi c'è di nuovo oltre e poi cambia quindi poi se vuoi giocare sul tempo ti devi anche calcolare quante battute hai a disposizione per mantenere quella modulazione esatto esatto sostanzialmente si devi guardare parlando di ciclo ritmico quanto ti dura e nel caso sfori lo devi tagliare in qualche modo perché sennò troppo è sì qualcosa deve inventare però queste cose quelle cose che poi appunto come hai detto detti ci diverti tantissimo a farle sì infatti diciamo che quando devi farle live nel mio caso devo stare molto concentrato nel senso se mi distratto un secondo basta è finita infatti devo proprio fisicamente quando sto che so che sta arrivando quella parte mi blocco un pochettino cioè mi fermo rimango un pochettino più stabile sullo sgabello e proprio parlo al mio stesso fisico cioè mentalmente parlo a me stesso dicendomi ok adesso per riuscire a fare quella parte devi girare e guardare il ride cioè se io non faccio quella cosa sbaglio perché è una cosa fisiologica mentale cioè guardare il ride dato che quella parte sul ride mi mantieni pronto a fare con la parte se io magari sto pensando che ne so o che bella ragazza che ce l'ha davanti sbaglio subito le distrazioni però questa è una cosa che ho trovato molto utile anche la per questa quana pillola mia personale quando studio c'è parlare a me stesso e anche sgridare me stesso tipo pazzo schizzato che parla ad alta voce e auto sgrida se stesso perché sta facendo la cosa giusta no guarda ti assicuro che sei in buona compagnia non ti preoccupare e penso di che non sto parlando solamente per me stesso quindi ti posso sicurare ce ne so tanti che si auto maledicono quando studiano mentre suonano quindi ok ok invece parlando un pochino più nel dettaglio di te se non ho capito male tu insegni sì esatto ok e senti un po dove insegni innanzitutto un momento come dico io dello sponsor e come nella la passione povera didattica allora io insegno sia privatamente qua dove abito io nel mio studiettino e faccio sia lezioni diciamo in presenza che pure online e poi insegno in due scuole a genova una è la scuola di musica giuseppe conte che si trova a pelli l'altra invece è divisa è sempre un'unica scuola però divisa in due paesi diversi è la scuola di musica faber che si trova sia rossiglione che amazone che sono due paesi vicini dove mi alterno in due giorni settimanali e come è nata la passione bella domanda in realtà è nata guardando e andando a studiare i batteristi con cui ho studiato partendo da mike mangini virgin donati e poi walter calloni a milano vedendo proprio la passione con cui loro ti trasmettono quello il loro sapere e quindi creano le generazioni future di batteristi mi sono detto perché non trasmetto anch'io nel mio piccolo quello che ho imparato e che so fare a le generazioni future che verranno dopo di me quindi quello che so fare dirgli magari non solo insegnarli a fare l'esercizietto ma aiutarli a creare il loro linguaggio sullo strumento perché comunque lo strumento non è fine a se stesso noi qui sopra parliamo una lingua quindi se noi siamo veramente così siamo allegri qua sopra si sente quindi perché non insegnargli il loro modo di essere sullo strumento quindi io pesco ognuno dei ragazzi che studia con me e cerco di capire che ho davanti in modo tale ad adattare il mio modo di insegnare e le cose che gli devo insegnare al loro modo di essere in modo tale da creargli il loro sound la loro personalità sullo strumento in modo tale che quando loro giusto fanno punta con cassa e rullo uno che lo sente sa già chi è che non è facilissimo in realtà non lo fanno proprio tutti diciamo io preferisco non far fare l'eserciziettino o comunque se te lo faccio fare poi te lo faccio applicare in questo modo se ti dico l'esercizio è questo bene come lo applichiamo sul set in mille modi e da lì si apre proprio il mondo da un esercizio banale come può essere un paradiddle o un qualsiasi rudimento ci si apre il mondo perché puoi fare quello che vuoi beh sì che poi è una cosa è una cosa molto importante perché poi l'esercizio fine a se stesso da libro ti fornisce semplicemente il vocabolo ma non ti fornisce poi la costruzione della frase quella la fai te sul set anche perché come dicevi te con tutte le punti a disposizione che ci sono fra suoni gravi acuti piatti e tutto il resto puoi fare veramente il mondo poi magari di 20 cose che fai te ne escono 18 brutte ma se già te ne escono due buone è già un traguardo quando questa cosa succede con 10 esercizi vuol dire che poi c'hai 20 frasi buone a disposizione che non è per niente poco esatto e quindi la passione per l'insegnamento è nata da lì dal provare a trasmettere la mia conoscenza e anche le mie esperienze live studio qualsiasi cosa che ho vissuto io agli altri e che continuerò a vivere cioè qualsiasi esperienza io andrò a fare live studio di tour non tour qualsiasi cosa anche di studio vado poi a trasmetterla chi studia con me c'è magari degli errori che ho fatto io studiando cerco di dire guarda se fai così arrivi all'errore c'è un metodo magari sbagliato fallo così e allora rimando subito sulla strada giusta che io ho percorso ma dopo essere mi accorto che ero super sbagliato quindi magari mi ha messo un anno o due a capire che stavo facendo un errore e allora poi ho detto aspetta è sbagliato e quindi studiati con lo giusto io allora trasmetto direttamente con lo giusto dicendo guarda che se lo fai in questo modo è sbagliato fallo così allora è più giusto quindi ti risparmio due anni di fatiche vabbè buono mi sembra insomma un ottimo metodo anche perché ecco indirizzare i ragazzi già su una su un determinato binario che gli permette di evitare alcuni rallentamenti anche se poi non sempre questi facciano male però insomma è una gran bella cosa sì sì esatto poi diciamo che anche a livello di spiegare magari l'esercizio o banalmente il feel da fare o anche il brano da suonare preferisco farci arrivare il ragazzo lo studente che non dirgli tutto io perché se io gli dico tutto come ti dico ok leggi e basta c'è ti dopo tutto il testo da leggere tu leggi a papagallo però non ti è rimasto nulla di quello che è esatto invece io preferisco magari far ascoltare per esempio studiamo un brano faccio ascoltare il brano e faccio fare al ragazzo al studente dirgli ok cosa hai sentito nel brano com'è la ritmica com'è quel feel e lo faccio scrivere o tirare giù a lui quindi lui mi dice secondo me il feel è così il groove è così poi magari sono io che dico sì oppure no nel caso dico sì gli dico ok però c'è questa cosa in più c'è quest'altra cosa non è un tom è un timpano per esempio oppure c'è il piatto o nel caso sbagliano gli faccio vedere com'è effettivamente il groove o il feel e gli faccio capire perché così e poi lo vado a scorporare groove e feel che siano per tirarci fuori quello da cui il batterista originale che l'ha suonati è partito perché alla fine sia il groove che i feel partono da degli esercizi tecnici che poi vengono evoluti quindi vado a scorporare a smembrare tutto finché non trovo qualcosa di base da cui il batterista è partito e poi si fa l'esercizietto tecnico che ti porta a fare il feel o groove che si è studiato bello bello mi piace molto vedi vedi lo dico sempre da ogni diretta si impara sempre qualcosa bene bene eh ma poi tutti questi trucchettini qua l'ho imparato piano piano sì no vabbè ma poi sai com'è la la vita del modista ci offre talmente tante opportunità a livello di di stimoli intuizioni che poi alla fine cioè cresce ogni volta cioè secondo me ogni concerto ti fa tornare a casa anche se hai suonato la stessa cosa eh però torni sempre a casa con qualcosina in più perché assolutamente sì banalmente da qualsiasi imprevisto possa succedere sul parco sì sì ma da qualsiasi imprevisto ma anche se tu dovessi fare cinque concerti che vanno tutti bene magari capace che in quei concerti migliora che ne so la tua percezione del corpo mentre stai suonando e magari che ne so trovi un angolo del piede sul pedale che non hai mai provato che ti c'è per caso e fai cavolo così gira ancora meglio e sono pochi millimetri oppure la posizione di un piatto che l'hai messa leggermente diversa perché c'era poco spazio ma scopri che è più comoda cioè secondo me ogni volta che siamo seduti sulla batteria è l'opportunità giusta per capire qualche cosa di nuovo assolutamente sì ed è un grandissimo stimolo ok bene invece adesso una curiosità tre o cinque album che tu ritieni siano stati fondamentali per la tua formazione musicale eh ho fatto tutto eh bella domanda beh allora ho allargato da tre a cinque infatti perché spesso poi ce ne so sempre di più eh in realtà dirò una cosa che magari va un po' fuori dagli schemi cioè non ho album che mi hanno eh diciamo ispirato ho più batteristi e pezzi o band che sono andato a sentire sporadicamente cioè che sporadicamente andando proprio a sentire mirato dei pezzi o mirato degli stili di batteria per rubare qualcosina per creare il mio stile di batteria ok ti direi sicuramente come band eh e dream theater eh quindi non so pezzi come possono essere dance of the eternity nightmare to remember vedi che già spaziano un pochettino eh eh Count of Tuscany tutti i pezzi di questo tipo bella quella bellissima è bellissima e oppure band un po' più eh diciamo che i dream theater con questi pezzi e anche altri li ho presi principalmente per basarmi un po' su come un batterista come poteva essere Mike Portnoy o Mike Mangini negli ultimi album potesse concepire l'applicare la batteria a dei tempi dispari complessi anche che mi sono detto perché potrebbe capitarmi benissimo con o la mia band o un'altra band di suonare della roba di questo tipo devo essere in grado di comunque affrontarla non posso dire no non riesco a farlo perché sono tempi strani e quindi l'ho presa per questo per questo verso qua cioè analizzare i dream theater e rubare il loro la loro concezione di suonare questi tempi dispari o tempi irregolari poi ho preso band come magari più power tipo i Rhapsody of Fire o Rhapsody in generale i Nightwish più per la concezione di come la batteria va applicata sul power quindi quali sono le ritmiche power standard come suona una ritmica power quali sono i feel da applicare nel power quindi qui i Rhapsody con Alex Hall basta la batteria mi sono stati d'aiuto tantissimo così come i Nightwish con sia con Yucca sia che con Kai entrambi perché mi è proprio piaciuto mi sono proprio divertito mettermi lì e vedere ok per esempio come suona Wishmaster Yucca come suona Wishmaster Kai e vedere come la fanno simile ma completamente diversa cioè uno ha un modo l'altro non è un altro prendere da entrambi e mi creo il mio beh beh una dramma analysis proprio figo sì esatto poi vabbè uno per esempio diciamo che mi metto Spotify Play e ascolto quello che viene tutto perché in realtà non mi piace dire mi limito soltanto al metal soltanto al jazz se suono jazz mi piace ascoltare tutto perché a parte che bisogna avere un'infarinatura generale cioè se ti chiama la band jazz e mi dice senti mi fai il brano ecco se gli dici no perché faccio metal ti chiama la band funk no perché faccio metal devi comunque avere un'infarinatura ovvio che il metal può essere il tuo genere predominante quindi uno sa fare meglio degli altri però se ti chiama un jazzista quanto meno portare a casa il pezzo jazz ce la fai il pezzo funk ce la fai o il pezzo pop questo appunto mi ha portato poi a registrare brani pop principalmente per artisti qua di Genova brani pop pop rock robe di questo tipo a Nadir Studios e anche lì quindi ascolto diversi generi magari ascolto che ne so i mesciuga e il pezzo dopo ascolto la big band di Buddy Rich un po' di pauroso però mi piace anche diciamo chiamiamo stimolare la mente cioè perché se io purtroppo ascolto solo una cosa cioè se io ascolto solo un album dei mesciuga solo l'album dei dream theater dopo 4-5 pezzi mi stufo perché continuo a sentire lo stesso mood di cose e allora devo cambiare allora preferisco ascoltare un pezzo da un album un pezzo dall'altro è un pezzo di un'altra band un pezzo di un genere diverso perché così do input diversi alla mia mente che nota più cose perché se io ascolto tutto uno stesso album poi mi atrofizzo e non noto più i particolari invece se cambio genere noto il particolare dico cacchio questo accento questo feel questo rullo strano con gli accenti questo passaggio questo groove con le ghost che magari non avrei notato se ascoltavo tutto a rando cioè così tutto l'album di fila bene bene mi piace mi piace ottima risposta veramente piaciuta bella bella bene ok allora guarda qua ritengo descrittato siamo fatti una bella chiacchierata e il tempo a disposizione è praticamente terminato quindi ti ringrazio di cuore per questa bellissima chiacchierata è stato veramente veramente un piacere ci tenevo tanto e siamo finalmente riusciti a farla ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito come vedete qui sotto c'è stato sempre in sovrapposizione il link della pagina facebook di winterage così potete seguirli ho linkato anche il profilo youtube di luca andate ad iscrivervi e niente ragazzi noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra diretta auguro una buona notte a tutti vai si voleva proprio dire l'ultima cosa che mi ha venuto il flash proprio in questi ultimi minuti in realtà è tutto collegato a sta cosa perché io l'anno scorso ci tornerò quest'anno tramite il buon Marco Zambruni che credo che tu conosca assolutamente sì sono andato in Grecia e lui è riuscito Marco perdonami un attimo anzi continua a dirlo scusa c'è un secondo un'emergenza casalinga tu continua io torno tra pochissimo ok ok appunto Marco mi ha tramite tramite Emiliano che era andato a suonare a Milano ha conosciuto il mio chitarrista Gian Marco che era lì insieme a fare service nel concerto dove c'erano sia Emiliano che Marco si sono conosciuti fra tutti e Gianma il mio chitarrista ha iniziato a parlare a Marco di me sostanzialmente dicendogli eh fa questo questo quest'altro suona così e cos'ha gli ha fatto sentire qualcosa e Marco gli ha detto eh cacchio questo ragazzo qua è il soggetto perfetto devo venire a camp e quindi gli ha detto a Gian Marco di dirmelo sostanzialmente la sera stessa che io già dormivo mi dice Gian Marco guarda questo ragazzo mi dice così e così e io l'ho contattato subito subito gli ho mandato la richiesta gli ho scritto subito e poi guardandolo dico cacchio questo ragazzo l'ho già visto e mi sono ricordato che io l'avevo conosciuto tantissimi anni prima che avevo appena iniziato a suonare la batteria avevo avuto 13 anni forse giù di lì alla clinica di Derek Roddy ed erano le prime cliniche che Marco organizzava cioè che portava questi batteristi in Italia e io lì conobbi per la prima volta Marco e dopo tutto sto tempo che ci eravamo persi ci siamo rincontrati per puro caso grazie al concerto che aveva fatto Emiliano a Milano e per il fatto che il mio chitarrista era lì perché sennò non si sarebbe creata questa situazione qua dove io ho potuto conoscere Marco che mi ha portato appunto a questo campio in Grecia dove tornerò quest'anno mi ha dato quindi la possibilità di studiare con i big batteristi mondiali Colias Roddy Mangini quest'anno ci sarà Thomas Leng Chris Coleman tutta questa gente qua e in più ma tramite sempre Marco sono riuscito a prendere l'anno scorso la sponsorizzazione l'endorsement Ufip che sono qui e è stata una figata che diciamo così a Marco gli devo tutto se è arrivato esattamente mentre ho finito proprio raga chiedo scusa emergenza condominiale mi hanno citofonato con una persona che era rimasta bloccata con i chiami il bello della diretta hanno chiamato perché sono quello più vicino al portone quindi il primo citofono hanno chiamato ma sono sentito di scusi sono rimasto bloccato niente va bene il bello della diretta niente praticamente ho raccontato la storiella che poi magari ti riascolti oppure ti dico dopo ok ok penso fossi inerente a qualcuno dei drum camp organizzati dal buon Marco Zambruni giusto? sì esatto perché io ci sono andato grazie al tuo concerto che avevi fatto a Milano dove c'era Marco ah ecco bene bene che ha conosciuto che ha conosciuto il mio chitarrista che gli ha parlato di me e beh camp uvito hai visto e poi io Marco lo conoscevo già dalla prima clinica di Derek Roddy che aveva fatto nel 2000 in qualcosa che erano le prime cliniche che lui organizzava a Genoa io Marco lo conosco per la prima volta dopo tipo 14 anni ci siamo rivisti per questa fortuita questo fortuito miscuglio di eventi il tuo concerto il mio chitarrista lì sì 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 io ero alla la tappa di Roma che si chiama Marco infatti è personaggio mitologico in queste cose e poi anche anche grazie a Marco dopo il camp della Grecia io sono arrivato a casa e sono diventato Ufip con la Marche di Piatti quindi è stata una fecata fighissimo fighissimo grande grande Marco bene bene a questo punto abbiamo abbiamo veramente finito con tanto di come si dice interruzione in diretta però è un trattenuto il pubblico sì 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 no ma su questo infatti non avevo dubbi che ero in buone mani quindi niente ragazzi di nuovo grazie a tutti per averci seguito come dicevo ci vediamo la settimana prossima in un'altra diretta ringrazio di cuore e Luca per la disponibilità e per questa bella diattirata come sempre ragazzi le dirette rimangono salvati in podcast qui sulla pagina di Drumward e sul mio canale YouTube quindi ragazzi buonanotte a tutti e grazie per averci seguito ciao